Approvato il progetto esecutivo per l'attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020. Nello specifico, la città di Agropoli risulta essere destinataria della somma di 130.000 euro. Tale finanziamento è relativo ai contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui mobilità sostenibile, adeguamento emesse in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico la città di Agropoli effettuerà, grazie a questo finanziamento, lavori di potenziamento della pubblica illuminazione, mediante efficientamento e il prolungamento dei corpi illuminanti, nei tratti mancanti in via Vincenzo Gregorio, presso la località Mattine, con apparecchi illuminanti a tecnologia LED. Lavori saranno effettuati anche presso l'istituto comprensivo Gino Rossivairo, per l'installazione di un impianto ascensore con struttura in acciaio e vanno corsa in cemento armato. Ed infine interventi saranno effettuati per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole con l'abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori rientrano nel programma triennale delle opere pubbliche.